Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolverli così i problemi riguardo al crash su Ghost of Tsushima quindi in questo caso quando vai ad avviare il gioco ti esce così questo launcher iniziale, vai direttamente su opzioni andiamo direttamente su schermo, schermo intero, schermo intero metti schermo intero esclusivo risoluzioni schermo 1920x1080 io uso questo, proporzioni metti automatico metodi di upscaling metti no, anti-aliasing metti su no latenza ridotta in video reflex metti attivo più boost, potenziamento generazione di fotogrammi, risoluzione dinamica no, frequenza di aggiornamento io metto 165Hz che si sincronizzano anche con il mio monitor sincronizzazione verticale metti sì, si metti su sì 60fps, impostalo su 60fps, una volta fatto vai su accetta, andiamo di nuovo su opzioni, su grafica preset, ho messo tutta grafica minima per fare più di 60fps e bloccare così gli fps a 60 con la frequenza di aggiornamento attiva quindi nebbia volumetrica minimo occlusione ambientale metti no, intensità di sfocatura dinamica, campo visivo metto su zero, plume vignettatura toglila, caustica d'acqua toglila e fai accetta una volta fatto, chiudiamo un attimo qua, entriamo direttamente nella sua cartella del gioco, tasto destro sopra su ghost of tsushima proprietà, compatibilità, disabilita ottimizzazioni, schermo intero, esegui questo programma come amministratore modifiche impostazioni per tutti gli utenti, lo fai con tutti gli utenti, su pc, fai applica, fai ok modifiche impostazioni di più elevati, sistema avanzato e fai ok e fai applica una volta fatto non ci resta che entrare nel gioco e fare anche le modifiche nel gioco ok, una volta fatto andiamo su schermo, schermo intero esclusivo come abbiamo messo su il launcher iniziale andiamo su grafica le stesse impostazioni che stavano anche su launcher iniziale chiudiamo un attimo il gioco come ultimo passaggio possiamo sempre andare su gestione dispositivi quindi tasto destro su start qua andiamo su gestione dispositivi andiamo così a controllare la nostra scheda video eccola qua, vai su aggiorna driver, cerchi driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibili inserisci così la tua scheda, fai avanti e la installa oppure puoi semplicemente installare la tua scheda sotto in descrizione ci sono i link che ti porterà sulla pagina per il sito AMD e Nvidia io per esempio uso l'applicazione Nvidia app per aggiornare la mia scheda video vado su driver ed ecco lì qua l'ultimo driver rilasciato è del 16 aprile 2024 e l'ho installato quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video quindi se questo video è stato utilissimo su come risolvere i problemi riguardo al crash su Ghost of Tsushima iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao